Benvenuti in Longin. Fondata nel 1832 a Saint-Igné, in Svizzera, Longin è sinonimo di savoir-faire, eleganza e prestazioni. Grazie alla sua vasta esperienza nel cronometraggio di campionati mondiali e alla sua partnership con federazioni sportive internazionali, Longin è conosciuta in tutto il mondo per l'inconfondibile eleganza e precisione dei suoi orologi. La maison della celebre clessidra Alata inizia la sua storia nel 1832, quando August Agassiz si unisce ad un consorzio a Saint-Igné. Ben presto Agassiz diventa il direttore dell'azienda, che cambierà il suo nome in Agassiz & Co. In quel periodo, la maison produceva segnatempo utilizzando la tecnica del «etablissage», che consisteva nel lavoro a domicilio degli orologiai che poi fornivano i loro prodotti al comptoir. Con la sua visione innovativa, vuole fondare una fabbrica dove possa assemblare e terminare ogni orologio, ricorrendo ad alcuni procedimenti meccanici. Oggi, Longin continua a rappresentare l'eccellenza dell'orologeria svizzera, con modelli iconici che raccontano la storia di un marchio che ha saputo coniugare tradizione ed innovazione, un mondo di eleganza, precisione e prestazioni senza tempo. Il Longin Legend Diver è uno degli orologi più celebri del marchio. Prodotto negli anni Sessanta, questo segnatempo da immersione è caratterizzato da una lunetta interna ruotabile, con una scala dei minuti per tener controllato il tempo di immersione. Il Longin Legend Diver è stato pensato per essere resistente fino a 300 metri di profondità, e rimane un pezzo da collezione per gli appassionati che cercano un orologio dallo stile vintage con una tecnologia moderna. Il Longin Spirit Zulu Time, invece, è un segnatempo moderno ispirato al primo orologio GMT della Longin, prodotto nel 1925. Questo orologio è diventato un modello di spicco nel mondo Longin, grazie al suo stile moderno e funzionale. La complicazione GMT si presenta sul quadrante con una quarta lancetta delle ore che indica il secondo fuso orario, e con una lunetta girevole che porta incise le 24 ore. Questo orologio nonostante sia un modello giovane è riuscito ad entrare nel cuore dei collezionisti e degli appassionati di orologeria. Insomma, il marchio Longin è diventato un fondamento dell'orologeria moderna. Con la sua cura per i dettagli, la qualità dei prodotti e la tecnica artigianale che contraddistingue la Maison, Longin ha incuriosito gli appassionati di orologi in tutto il mondo, che non possono fare a meno di un modello Longin nella loro collezione.